Allora Don, vorrei parlare un attimo della realtà di Dio, perché al giorno d'oggi tu, io e i miei amici ci facciamo praticamente tutti le stesse domande, ma Dio esiste veramente o è solo un'invenzione umana? E' interessante questa domanda, perché è vero, oggi tanti ragazzi, alcuni non ce lo pongono neppure l'esistenza di Dio, oppure se ne buggerano completamente, oppure quelli che se lo pongono sanno cose vaghe, così esiste, non esiste. Intanto diciamo questo, chi è Dio? Ecco, chi è Dio? Io la prima cosa, poi vedremo che Dio esiste. Chi è Dio? Io direi così, Dio è la felicità, perché, vedi, ogni uomo aspira a qualche cosa, di grande. Questa aspirazione che è diventare felici, forse inconsciamente alcuni vogliono diventare più ricchi, vogliono diventare potenti, questa aspirazione che c'è interiore dentro di noi, è segno della felicità che l'uomo va alla ricerca. La felicità è Dio, la felicità si trova in Dio. C'è Sant'Agostino che dice una frase molto bella, forse Elisa già la conosce. Sant'Agostino dice inquieto è il nostro cuore finché non riposa in Dio. L'uomo è sempre, va alla ricerca di qualcosa, e quando trova Dio, per Sant'Agostino è stato così, è stato un giovane scapestrato, combinato di tutti i colori, ma poi dopo a un certo punto ha messo la testa a posto e ha capito che la felicità si trova in Dio. Quello che lui andava ricercando ansiosamente, la felicità umana, l'attaccamento alle persone, alla creatura, al possesso, a questo, a quello, le soddisfazioni umane, lo hanno sempre deluso. Nel momento che ha trovato Dio, ha trovato la pace, ha trovato la gioia, ha trovato la serenità della vita. È molto bello questo. Basterebbe rileggere proprio le famose confessioni di Sant'Agostino dove si parla di questo, è stupendo. Ma intanto diciamo Dio non è, guarda, non è un'invenzione, lo sentiamo dentro di noi, ma tu mi potrai dire dove trovo allora sto Dio che io non tocco, non lo vedo? Ma Dio è, è dappertutto, è nella creazione, in un tramonto stupendo che tu vedi la sera, in un'alba bellissima, in una scena di mare immensa, quante volte mi sono fermato davanti al mare e vedi la grandezza di Dio, cioè nella natura. Dio lo trovi anche in tanti altri posti, lo trovi nella vita, nella vita. Però no, se troviamo Dio nel bello, come rispondiamo per esempio alla fame nel mondo, alle guerre, agli assassini? In quel momento proprio in quel momento Dio? Questo è un altro problema, vedi? Questo è il male che c'è nel mondo che è causa, non di Dio, Dio non ha voluto mai il male, è causa del peccato dell'uomo, dell'egoismo umano, questo è il problema. Se oggi nel mondo ci sono dei grossi problemi, della guerra, della fame, dell'ingiustizia e di tante altre cose, sono dovute all'animo cattivo dell'uomo, all'egoismo dell'uomo, l'uomo che vuole sempre schiacciare l'altro, il fratello. Dio non ci ha fatto perché, Dio ci ha fatti per la felicità, ci ha fatti, tu ricordi quando Dio ha creato i primi uomini? Tutto era cosa buona, le ha creati per la felicità, per il bene, però gli ha detto attento, tu sei l'uomo libero, qui c'è il bene e qui c'è il male, stai attento, attraverso quell'immagine dell'albero, no? Questo è l'albero buono, questo è l'albero cattivo, non mangiare dell'albero cattivo che se no muori, quindi scegli sempre il bene, è lì che troverai la vita. Quindi il male è una scelta libera dell'uomo, ecco le conseguenze che sono poi in tutto il mondo e tutti i contrasti che noi viviamo, i problemi enormi che ci sono nel mondo, quindi ecco, però quello che a me interessa è proprio questo, far capire oggi anche ai giovani che se tu trovi Dio, trovi un senso della vita e Dio lo trovi, come dicevo, nella creazione, lo puoi trovare nella storia, negli avvenimenti, nell'incontro con un fratello, lo trovi nell'amore con una persona, lo trovi in tante, l'importante è fare esperienza di questo Dio, ecco, capito? Fare esperienza, ricercarlo, perché vedi, la grandezza di un uomo sai in che cosa sta? Nella ricerca delle cose grandi, finché un uomo è in ricerca, si interroga sulla vita, sui grandi interroga, questo è un uomo grande, colui che non si interroga mai, colui che è superficiale, colui che... questo non è un uomo che vive bene la sua vita. A proposito di interrogarsi, Don, ma centrando proprio il discorso, che cos'è la fede? Ecco, vedi, la fede, il discorso è molto lungo, ma io ti potrei rispondere con una battuta, noi siamo cristiani, chiare me, e abbiamo una fede cristiana, la fede che cos'è? È fiducia massima e abbandono in Dio, avere la certezza che questo Dio esiste, che ci ama, avere questa fiducia in Lui, questo radicamento in Lui, avere questa amicizia in Lui, questa è la fede, non è cose teoriche, astratte, il credere, il credere è fare esperienza di una persona, per me questo è credere. Ma c'è contraddizione tra fede e scienza, per esempio? No, assolutamente non c'è, soltanto che sono due realtà che di per sé camminano parallelamente, però a un certo punto, vedi, la scienza ha un limite, la scienza è limitata alla sfera naturale delle cose, alla sfera materiale, alle conquiste tecniche, scientifiche, siamo sempre nel campo della natura, la fede ci porta al di là, quindi vedi, la scienza arriva fino a un certo punto, c'è un campo anche vastissimo della ricerca della scienza, ma siamo sempre nel campo naturale, la fede ci porta in una prospettiva diversa, superiore, per cui a un certo punto la scienza ha un limite e questo limite lo può passare soltanto alla fede. Avere questa capacità dell'uomo, dire, bene, fino qui arrivo con la mia intelligenza, da qui non so andare oltre, ma su questo mi affido a Dio, ecco la fede, fidarsi di Dio. Io ho un'immagine sempre che mi piace e poi voglio concludere, no? La fede è questo, io certe volte me lo immagino così, come se tu stai su un alto monte, no? E a un certo punto stai sul pinnacolo di questo monte e sotto vedi un baratro, no? La fede cos'è? è buttarsi in questo baratro, no? In questo abisso, ma convinti che non muori, che c'è uno che ti accoglie con le sue mani e piano piano ti porta sempre a vivere, perché ti ama, ti vuole bene. È questo fidarsi di una persona, come quando eravamo bambini e ci fidavamo della nostra mamma, di fronte a delle cose andavamo subito, ecco questo abbandono, questa è la fede, è fidarci di Dio.